Icona è la linea di special creata da Maranello per celebrare le icone rosse del passato. Le Ferrari Monza SP1 e SP2 sono i primi due volidi di questa serie. Scattano da 0 a 100 in meno di 3 secondi e superano i 300 all'ora. In questo caso il riferimento è alle barchette da competizione, come la 750 Monza e la 860 Monza. Il V12 aspirato è un'evoluzione di quello della 812 Superfast, portato a 810 CV. Per contenere il peso, che è di 1500 kg per la Monoposto SP1 e 20 in più per la B-Posto SP2, sono tanti gli elementi in carbonio, a cominciare dal cofano motore che si solleva in avanti insieme ai parafanghi. In assenza di un parabrezza alla Ferrari hanno sviluppato e brevettato un cupolino chiamato Virtual Windshield che devia i flussi d'aria dal pilota e dai comandi. Grazie. Grazie.